Beh, Rossetti, lo sai che deve venire Zema? Eh sì, lo so che deve venire. Lo stiamo aspettando, spero che arriva quando prima. Tutto ora, tuttora, lo faccio anche tutte le domeniche al campo. Faccio così e sono molto fortunato. Con queste corne che faccio sono fortunato. Beh, io il Foggio l'ho seguito dall'età di bambino. Io facevo il racchettapalle. Venne una partita, venne l'Inte, quella famosa partita di 3 a 2. Io facevo il racchettapalle, andai una palla fuori dall'aria. Io la pigliò, la bloccai, la dette all'azzorti. L'azzorti passai a Nocera, a Nocera oltremai. Gol di Nocera, una stafilata di Nocera. Che il portiere Zoff sta ancora facendo le mani e mi bruciano. E vincevamo la partita. Quella è stata quell'occasione che il Foggio ha vinto la partita. 63-64. Per la mia racchettapalle ho preso questa palla. L'ho preso, l'ho bloccato, l'ho dato subito all'azzorti. Lazzorti ha passato a Oltremare, Oltremare, Nocera, Nocera, gol. Abbiamo fatto, è stata una cosa libida. Non si capiva niente dello stadio vingendo all'Inde dei tempi belli. Sono personaggi caratteristici del campo, dello stadio di Foggia. Penso che ognuno di loro si gioca la sua supremazia di essere più tifoso di Foggia. Non si sa chi è di più.